Dopo lo stop ordinato dal dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia al conferimento dei rifiuti nella discarica di Contrada San Nicola alla Guardia di Andria, ieri si è svolta presso il Comune di Barletta l'Assemblea dell'Organismo di Gestione d'Ambito della provincia Abbat. La riunione dei sindaci ha preso atto che le soluzioni tecniche assunte nell'immediatezza non consentono di risolvere adeguatamente la situazione critica venuta sia a determinare per 7 dei 10 comuni della provincia Abbat, anche a seguito delle difficoltà di conferire oltre il 29 maggio i rifiuti indifferenziati presso la piattaforma di biostabilizzazione di giovinazzo della stessa società in presenza di un'altra specifica disposizione della Regione Puglia. Dunque si è venuta a creare una condizione che non consente nemmeno di utilizzare la possibilità dell'accordo di cooperazione a suo tempo sottoscritto tra l'ambito territoriale ottimale della provincia di Barletta Andriatrani e l'ambito territoriale ottimale della provincia di Bari. A partire dal 30 maggio verrà a determinarsi un'emergenza rifiuti per i 7 comuni della provincia Abbat. Di fronte a tale venienza l'Assemblea ha deciso di investire la Regione Puglia dell'esigenza di tempestive e adeguate soluzioni. A tal fine è stata concordata una riunione con il settore ambiente della Regione il cui esito tornerà ad essere valutato in una nuova riunione dell'Assemblea. Intanto anche il Presidente di Lega Ambiente Puglia con una nota commenta la notizia della chiusura Per Francesco Tarantini siamo al totale collasso. Dopo Conversano, Giovinazzo, Trani, Autinio e Foggia assistiamo in ermi alla chiusura dell'ennesima discarica questa volta ad Andria in una provincia virtuosa come la Bat dove le percentuali di raccolta differenziata sono fra le migliori della Puglia. È assurdo pensare di poter continuare a far leva su un ciclo di rifiuti fondato prevalentemente sull'uso delle discariche, oggi totalmente al collasso. Purtroppo i continui rivii dell'ecotassa, la mancata realizzazione dell'impiantistica, il ritardo dei comuni sull'avvio della raccolta differenziata porta a porta stanno portando all'emergenza rifiuti penalizzando ancora una volta i già vessati cittadini. Auspichiamo, conclude Tarantini, che il nuovo Governatore di Puglia inserisca fra le priorità della sua agenda il tema di rifiuti adottando subito politiche sostenibili che diano risultati concreti.